Un secolo di musica Taranto è quanto presentato dagli amici della musica Arcangelo Speranza attraverso la stagione dei 100 anni. Il nuovo logo dell'associazione è realizzato da Vittorio Nunnari proprio per celebrare un secolo di storia del suo dallizio ionico, oltre al nuovo sito. Abbiamo puntato su una stagione alquanto classica, direi, perché il nostro scopo da quando siamo stati fondati era quello di promuovere la musica classica nella città di Taranto. Quindi grossi nomi internazionali, prevalentemente appunto di musica classica. E poi proseguiremo con altri concerti. C'è anche del jazz, della musica d'autore. Un nuovo logo e soprattutto un nuovo sito, molto più moderno, più di facile accesso, ma molto elegante nel contempo. Per cui, insomma, ci rinnoviamo festeggiando i 100 anni. Una stagione di altissimo livello, che soprattutto passa dalla musica classica alla musica jazz. Insomma, c'è veramente un grande movimento, ma nomi di altissimo livello, come sempre. Gli amici della musica Arcangelo Speranza da sempre si occupa della promozione e diffusione della musica nelle sue forme più elevate. E l'Associazione Amici della Musica ha cercato di adempiere la sua vocazione di centro culturale attraverso serate d'arte, con i migliori artisti del nostro tempo, che hanno proposto i grandi capolavori della musica classica. In tempi più recenti, il programma dell'Associazione si è aperto anche a nuove forme musicali, al teatro musica, al jazz e alla danza, nella convinzione che non debbano esistere confini all'interno della parola arte.